Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pack Flags Come vedete sto facendo un paio di questi bellissimi e fantastici Calculation Process Perfetto, abbiamo questo Crafting Unity Ci prendiamo quello da un K e ta-da Bam Un K-Crafting Ora non so se devo farmi anche il co-processor Ma in teoria non dovrebbe essere così Ottimo Facciamo Eh giustamente ora dove lo metto questo? Lo metto dall'altra parte o qui? A me servirebbe Eh non lo so dove servirebbe sinceramente Di qua più o meno Penso più di qua che dall'altra parte Ok perfetto abbiamo un Crafting CPU Ottimo E quindi come vedete qua possiamo vedere anche Del resto se abbiamo dei job attivo oppure qualcosa di no E eh C'è qualcosa no Non attivo E colla mi servirà questa roba qui sopra anche Prendiamolo qua Perfetto Ok Allora qui posso craftare quelli che voglio Quindi in questa cosa devo farmi blank pattern Facciamo quanti? Boh due, tre, quattro Vediamo Facciamone due solamente Che sono due che scaffarne Va bene E ok Qua dentro Ah giustamente devo farli Devo farmi l'altro cosa Devo farmi E a proposito Ehm Ehm Facciamoci questo security system Ma la war punch Ma la war punch Comunque mi fa fare Certe cose No security Ehm Non chest Come diamine si chiamava Io non me lo ricordo Ehm Non è che devo farmi il crafting Penso di Sì Probabilmente Facciamo così Ok Mi servirà il crafting Ok Crafting monitor In questo modo Quindi devo farmi Ah Deve farmi comunque un crafting Storage Ok no problem Abbiamo altri due quarti Sì ce l'abbiamo Perfetto Quindi facciamo così Così Ehm Facciamo un monitor Penso che sia un monitor normale Ce l'abbiamo forse un monitor normale Ce l'abbiamo Sì Conversion monitor Quello normale Perfetto E ok Facciamo due di questi Facciamoci E Prendiamo due silicon Così almeno facciamo Sta roba Ok Spero che tutto il resto Non sia un problema Anche perché Voglio farmi questo autocrafting Così da fare che cosa I nostri piccoli Craftaggi strani Quanto vu Oh Eh Abbastanza vu Dai ce la posso fare Ottimo Uno e due Uno due silicon A proposito Sulla spada ho messo Il nostro Sharpness 5 Tipo ho fatto con Trenta livelli che avevo qui Con il nostro enchanter E devo dire che funziona molto bene Contro gli enderman Ehm Ho lootato un bel po' di enderman Come vedete Ok Crafting Ah dimmi che ho abbastanza roba Perché sennò sono una merda E Mi sa che mi servirà quello No No Perfetto Abbiamo un po' di logic processor Qui in mezzo Quindi yeah Che figata Ehm Cos'è che mi serve? Ah Storage monitor Ehm Cos'è sta cosa? Ah Level Ah Porcacca Un altro Oh No un altro Non ce la faccio Ehm Merda Merda Ehm Come facciamo a risolvere sto problema? Ma ci servirà Ci servirà Per forza qualcosa Vabbè Lasciamolo stare Per il momento Non possiamo farci nulla Allora Vediamo un po' Allora Troppo allora Sapete Allora ho preso un bel po' di roba Quindi possiamo farci questi transmitter E questi retrievering Quindi Ehm Mi serviranno che cosa? Un sacco di Ehm Questi cable probabilmente Transfer node E Ehm Oltre questi anche mi servono Ehm I transfer node liquid E altre cosette Allora Se non sbaglio Comunque devo andare qui dentro Devo fare Devo levare questi cosi Ok Avevo un bel po' di questi item E Allora Extra utilities Ehm Mi servivano I node Ah vabbè Transfer Scriviamo semplicemente i node Devo farmi questi qua Retrievering Ehm Ok mi serviranno Degli emerald Quanti mi servono? Due o tre? Due Ok perfetto Ehm Quindi mi serviranno Item giusto? Sì ok Due e due item Due e due enderpearl Mi servono anche un bel po' di Ehm Emerald Se non abbiamo abbastanza emerald Per poter completare l'ultima quest Che avevamo Delle cose fantastiche Tipo quelle fighe Ehm L'unico modo Assolutamente per poter fare Quella missione E Ehm Andare in un bioma Altezza Grande Così posso recuperarli Ehm Però il problema è che non Ehm Non ne ho trovato uno Velicino vicino Casa Oppure comunque c'è vicino casa Ma non l'ho visto Mi servono dei liquidi Comunque nel frattempo Facciamoci un paio di liquidi Uno e due Perfetto Ehm Mi serviranno dei diamanti Ok abbiamo abbastanza di diamanti Proposto Prendiamo questi 300 diamanti Ok Dovrebbero bastare Vediamo un po' Dovrei andare tipo Giù 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 Il nostro bellissimo Too many things Ok Diamond Diamond Ehi Eh Intanto poi li recuperiamo Magari in off camera Vado a scavare come faccio Di solito Sperate che Gli ho dimenticato uno Ok E poi lo vedremo in off camera Quindi non preoccupatevi Per il momento Ok Due di questi fatti Adesso mi serviranno Due e due di questi Due di questi in mezzo E due under pearl Così sempre Ok Nel frattempo Questi li ho fatti Quindi dovrebbe essere Possibile Ehm Rewardare Non ancora Ok Ok devo farli Liquid Transfer node liquid Cioè Retriever node liquid Ehm Bene Il problema sta nel fatto Che non posso Craftarli manualmente Quindi Stanzialmente Io Comunque li ho fatti In qualche modo Ora non so Se li prenderai Io spero ovviamente Che li possa prendere In qualche modo Anche perché L'unico crafting Che posso fare E questa roba Cioè non posso fare Io manualmente Voi dite vabbè Non li puoi fare No Vedete È l'unico modo E farli nel quad Quindi spero ovviamente Che questa quest Sia possibile Farla velocemente Caso contrario Ehm Un'altra quest Che non possiamo fare Wow GG Per il creatore di questo mod Perché ha capito bene Come utilizzare La Hardcore questing mod Ok Mi sa che questa non le prende E infatti non le ha prese Porca vacca Va bene Questo non va bene Questi qua Riusciamo a fare L'ender Ender transmitter E L'altro Sono questi due Sono Ok questi fanno Ok questi fanno Direttamente nella crafting Quindi questi li possiamo fare Ehm No Sfortunatamente non possiamo farci Questi due ragazzi Yeee Viva la figata Yeee Posso farli Nell'uncrafting table Sapete No Giustamente Dice Guarda questo non è crafting Giusto E beh C'ha ragione anche Ok Facciamoci l'ender Allora L'ender transmitter Solamente Mettiamo questo ender panel Qui dentro Ok Uno di questo E uno di questo Eh Questo fa nel quad È inutile Giustamente Scusami Ah detection Questo è detection Quindi Ho sbagliato lui A fare qualcosa Oppure Boh Comunque Cos'è che mi serve Questa roba Servono Cinque ender pearl Tre di questi Quarzi Ok Allora Cinque ender pearl Oh mio dio Cinque Oddio Sono senza ender pearl Di nuovo Quarzo Tre Ok Giustamente Stanto un pezzo Di redstone Perché Nove sono I massimi slot Ok Quindi dovrò Tipo farli mettere Qualcosa di bello Quindi Uno Due Tre Quattro Sta piovendo Yeah Piove in minecraft Ogni tanto A proposito Dovremmo fare fatto Del wood Sapete Andiamo un po' Possiamo sempre Volare Ok Ho bisogno un po' di cibo Quindi yeah Devo fare cibo Ok Amico Come stai messo Hai fatto abbastanza roba A proposito Ma tu A te non ti rompe mai Sto wooden cutter No Sembra di no Ok Altro Bellissima cosa Un bel po' di cibo Mangiamo tipo una mela Che probabilmente non darà niente Però Che se ne frega Meno di niente E ok Dovremmo poter fare Un'altra parte Sempre del nostro Too many things Ok Pian piano sto aumentando Ci vorrà ancora un po' Perché la legna È l'unico modo Che riusciamo a prendere qualcosa E Però per il momento Sta andando abbastanza decentemente Non ci lamentiamo Finito? Ha finito Perfetto Ok E questo invece L'abbiamo fatto Quindi yeah Abbiamo fatto questa roba Dov'era Factory churin Ok Prendiamoci Le world bag L'elettrico Non so se serviva qualcosa Incienamente Non penso E quindi vedete Questa parte Non la possiamo fare Perché sostanzialmente Non abbiamo manco Questi quarry Detrivering Peccato Questi under quarry Invece Andiamo un po' I nostri Così di under quarry Andiamo un po' Under quarry Fortune No Fortune Eccolo qua Fortune 3 Si fa con due piccoli Con fortuna 1 Ok In te la posso riuscire a farlo Devo farmi Un piccolo con fortuna 1 Ancora Ah ok Devo iniziare da quello basilare E fare gli altri Ok Questo dovrò farlo off camera Quindi preparo i piccoli In off camera In caso Vabbè ragazzi Direi che Apriamo questa bag Vediamo un po' Cosa ci avevo dentro Bacon Ok Bacon che Probabilmente servirà qualcosa Bacon Wow E Non posso fare nient'altro Tranne che Magari fareci un bel po' Di questi compression Dino Di questi compression Ingo Sapete Tipo uno stack Anzi più Facciamo tipo Un bel po' di stack E un bel po' di TNT Ok Ora dovremmo andare anche Le mini TNT Però facciamo le TNT solamente E mi servirà una leva Ok E level Ok Ottimo Dovrebbe essere sufficiente Sta roba Vabbè adesso Ok Vediamo il coso E Dobbiamo vedere un attimo Quei crafting Che non possiamo ancora fare Se Dobbiamo fare qualcosa Per poter risolvere questo problema Oppure no Eh io direi che Mi sa che È abbastanza improbabile Poter fare qualcosa Almeno Noi manualmente Cioè potremmo anche farlo Però Non saprei sinceramente Quindi vediamo un po' Nel frattempo Comunque fatto stack Dobbiamo fare Nella pozza di acqua Qui dentro Buttarci i nostri lingotti Di ferro C'è anche un bel po' di gente Qui dentro E Fare in questo modo Ok Dovrebbe in teoria Fare tutto necessario Ok Vediamo un po' Dove sono Ok Perfetto Dovrebbe essere sufficiente Abbiamo un bel po' di Compresse di iron ingot E Ok Allora Facciamo in questo modo Per tutto questo Adesso dobbiamo farci Queste altre cose Che però Faremo nel prossimo episodio Per il momento Io vi saluto E ci vediamo nel prossimo video Rizzonte 6 è tutto E Ciao ciao ragazzi Mi sono accorto anche Di avere abbastanza Glassing e fable Quindi yeah Facciamo anche questo Unstable ingot Potrebbe essere precoloso Prendere questa unstable ingot Quindi prendere soltanto La cursed earth Sì ok E sta roba inutile Che Vabbè È bella Quindi perché no Mi ho detto di metterla A qualche parte Però non so se lo farò o no Ebbene Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi